Dal Vangelo secondo Luca Dal Vangelo secondo Luca Per questo sono stato mandato E andava predicando nelle sinagoge della Giudea Ci sono tre aspetti che Gesù cura nel suo ministero Che è quello di annunciare, insegnare e guarire In questo racconto abbiamo il guarire e l'annunciare E vediamo come Gesù nel momento in cui compie questi gesti di guarigione Non è il fare attenzione a un'eventuale singola malattia Che la persona vive Ma si prende cura di tutta la persona E si prende cura della persona nella sua integralità Chi viene guarito, chi vive il segno, l'esperienza di guarigione Da una determinata malattia attraverso l'incontro con Cristo Viene reinserito, reinserita nella vita ordinaria comunitaria Della comunità Perché questo era un problema Una malattia poteva essere un problema di esclusione importante Sia dalla sinagoga Sia dal contesto della comunità E l'incontro con Cristo ristabilisce la persona In tutte le sue dimensioni Sia dal punto di vista della sua malattia Sia dal punto di vista anche delle sue questioni sociali comunitarie importanti E questo è tanto È molto significativo questo che vediamo qui Che Gesù compie Nei confronti della suocera di Simone Di Pietro Che viene guarita E qui viene usato il verbo della risurrezione Gesù la prende per mano La fa rialzare E subito la febbre la lascia E lei si sente guarita E comincia a servire Uno si rialza Per mettersi al servizio degli altri Anche questo Gesù L'effetto Diciamo così La conseguenza della sua guarigione Non è per se stessa Ma in un certo senso Per darsi da fare per gli altri Per fare Per dare la vita per gli altri Per servire gli altri Gesù con la guarigione Ti mette di nuovo Nella condizione di essere te stessa Nella tua totale libertà Nella tua totale serenità E anche nel vivere La dimensione più importante della tua vita Che è la dimensione del dono O del donarsi per gli altri O servire gli altri Dare la vita per gli altri Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti